La soluzione a volte è semplice. Per solito, è sotto gli occhi. Quando è arrivato? Adesso calmati. Ne avremmo parlato quando tuo padre sarebbe tornato a casa. Grace, io mi sono rotto dei tuoi segreti. Lo capisci? Basta! Fermati. No! Fermati, me lo dimentico, amore. Jill! Ehi, tu. Io? Sì, tu. Sei l'unico ragazzino qui. Come ti chiami? Il mio nome è... Phil. Phil. Io sono Amos. Ogni donna... deve difendere la sua vita per non essere molestata e violentata. fingere di essere solo un oggetto usa e getta e pensare di cavarsela da sola senza avere un amico. Tiny. Sai, a volte nella nostra vita non abbiamo altra scelta che andare avanti. Esatto. Ehi, hai trovato quello che cercavi? Questo è il capodanno più bello di sempre perché tutti noi siamo diventati una famiglia. Amori! Ehi! È proprio una bella storia. Grazie per l'aiuto. Nessun problema. Grazie per l'aiuto. 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 Grazie a tutti.